Fiato sospeso fino alla fine a San Martino in Pensilis, dove l'ultima parola sullo svolgimento della Carrese spetta la commissione di vigilanza che si riunirà proprio lunedì mattina 30 aprile, giorno della corsa. Il Tarmolisi ha infatti respinto il ricorso contro la sospensiva della prefettura, che ha deciso di vietare la gara per una questione di sicurezza, nonostante l'imponente macchina organizzativa messa in piedi dal comune, che lavora per mesi e mesi per permettere lo svolgimento della corsa. Le misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone durante le manifestazioni pubbliche sono diventate sempre più stringenti dopo i fatti di Torino, quando in occasione della finale di Champions in piazza San Carlo rimasero ferite oltre 1.500 persone e una donna morì. Misure per certi versi anche incompatibili con un evento come la corsa dei carri, che non si svolge nel chiuso di una piazza, ma si snoda in un percorso nella fattispecie lungo 9 chilometri. In paese l'aria è molto tesa e le firme raccolte tra i cittadini che si autorresponsabilizzano nel caso in cui si dovesse verificare un incidente durante la gara sono state anche consegnate a Palazzo di Governo a Campobasso. Tutto resta ora in forse legato a quanto deciderà la Commissione lunedì, quando si riunirà alle 11. La Commissione è formata da tecnici superpartes che dovranno verificare che tutte le disposizioni del disciplinare sono state rispettate. Cresce l'attesa in paese e l'angoscia che anche quest'anno la carrese possa saltare.